Quando a Zanetti e Maldini il derby in assoluto più, anzi no, ti ho chiesto qual è la partita in cui c'è stato, di club, in cui c'è stato il clima più incredibile che avete vissuto, e tutto sulla stessa partita, che peraltro era anche la mia risposta da spettatore a San Siro, però qua e lì hanno fatto una carriera diversa, entrambi hanno detto Inter-Milan, semifinale di ritorno della Champions, entrambi hanno detto la stessa partita. E quando ero là, effettivamente, era una roba pazzesca, io mi ricordo che quando segnò l'Inter a sei minuti dalla fine, non credo che ci sia una fila né rossonera né n'azzurra che sia rimasta o si è mossa tutto, che è stata una roba scioccante, scioccante, c'era una roba che esplodeva.